Salve a tutti ragazzi e benvenuti ad un nuovo video. Oggi, in questo ultimo giorno di questo 2019, volevo parlarvi di un argomento che riguarda un aspetto del karate che negli ultimi anni, tra l'altro, è stato anche un po' accantonato. Allora, sto parlando del cosiddetto sound karate, e fermi là, già vi sento con i commenti, con le dita tutti inferociti a scrivere, ma che stai dicendo quella roba non è karate? Fermi. Allora, il sound karate è stata un'idea, secondo me molto creativa e molto originale, di Lucio Maurino, che è un grandissimo campione di kata, che vi ho già menzionato, tra l'altro, nel video che ho fatto ieri. Ed è... e consiste, quindi, nell'eseguire i kata al ritmo di musica. E siccome, come tutti noi karateka sappiamo, che uno dei requisiti essenziali per eseguire bene un kata è appunto il ritmo, io credo che questa cosa non sia, questa del sound karate non sia da denigrare, ma anzi, credo che sia forse uno dei metodi migliori per allenare il ritmo nel kata. Io ho fatto una sola esperienza di sound karate nel lontano 2009, in particolare era, me lo ricordo benissimo, il 25 ottobre 2009, data in cui presi parte a uno stage con Lucio Maurino, che incontravo per la prima volta, quando ancora era nel pieno della sua attività agonistica. E noi adulti, con lui abbiamo studiato il kata MP, diviso in due parti, più alcune tecniche molto belle, molto efficaci di difesa personale, e il programma prevedeva anche il sound karate, appunto eseguire dei kata appositamente creati per occasione al ritmo di musica. Infatti mi ricordo che quella lezione di sound karate fu a ridosso tra la fine del turno dei bambini e l'inizio del turno di noi adulti. Io all'epoca avevo 17 anni, quindi ero cintura verde, però comunque rientravo nel turno degli adulti, già perché ero dai 12 anni, insomma. Al che Lucio Maurino, a un certo punto, verso la fine della lezione dei bambini, dice Chi vuole venire a fare sound karate, potete venire. Io all'inizio ero un po' titubante, perché pensavo, ma non è che magari faccio qualche figuraccio, invece gli ho detto, ma sì, andiamo. E mi sono fatto questa meravigliosa lezione di sound karate, appunto abbiamo eseguito un breve kata che il maestro ci ha spiegato e che è stato preparato appositamente, è stato preparato ad hoc, abbiamo eseguito questo kata al ritmo di musica. E non solo, abbiamo fatto anche il riscaldamento a ritmo di musica. Ed è stata un'esperienza meravigliosa. E quindi so che molti tradizionalisti di ferro, convinti, diranno che il sound karate, oddio santo, un'eresia peggio del karate alle Olimpiadi. Però ragazzi, vedete, io ritengo sempre che bisogna mantenere la mente aperta. Va benissimo rispettare le tradizioni, io sono il primo a dirlo. Il mio video commemorativo su Sensei Rokazu Kanazawa ne è l'esempio lampante, quindi andatevelo a vedere se volete. Io sono il primo a dire che il karate tradizionale è appunto... Il karate è vero, diciamo così, ma... Non bisogna neanche disdegnare l'innovazione. Infatti, già avevo detto nel video in cui parlavo di giochi di lotta che io ho fatto una tesi per la laurea magistrale, che discuterò a febbraio sul karate. L'ho fatta sulla funzione sociale, sull'inclusione sociale, quindi il karate come strumento di inclusione sociale e d'autostima. Ed ho anche voluto mettere l'accento, poi ve ne parlerò dopo che la tesi sarà rilegata, sull'integrazione, che secondo me deve esserci tra tradizione ed innovazione sportiva. O, ancor più in generale, tra tradizione ed innovazione. E quindi il sound karate, devo dire che è stata per me quell'unica esperienza che fece a quello stage con il maestro Lucio Maurino nell'ottobre del 2009, è stata veramente molto molto bella. È stata un'esperienza molto bella, però è stata un po' l'unica, purtroppo, per me, per il sound karate, perché è una cosa che poi si è andata un po' perdendo. Guarda, addirittura... E questo mi è dispiaciuto. Guarda, addirittura, pensate che in un'intervista che lessi un po' di anni fa che fecero a Vincenzo Figuccio, ecco, Vincenzo Figuccio fece un'affermazione che secondo me ha fatto rizzare i capelli in testa a tantissimi tradizionalisti della vecchia guardia, dicendo io credo che i katà musicali siano il futuro del nostro sport. Apriti, cielo! Tu mi dici, katà musicali, mi dici che il karate è uno sport, un tradizionalista così lo uccidi, perché a sentire un'affermazione del genere secondo me è un tradizionalista infarta, sicuramente. Però ragazzi, come vi dicevo prima, smettiamola con questa guerra tra poveri, tra tradizionalisti e sportivisti. se ognuno rimanesse alla propria idea senza però insultare o offendere gli altri, secondo me si verrebbe molto meglio. Quindi ho fatto questo video anche con lo scopo di lanciarvi questo messaggio. E voi mi chiederete a questo punto, Stefano, ma tu sei più tradizionalista o più sportivista? Diciamo che a me piacciono entrambi gli aspetti, sia il karate tradizionale che il karate sportivo e tutte le innovazioni che ne derivano. E quindi, come vi dicevo prima, vi invito, invito tutti i karateka a smetterla di fare questa guerra tra poveri, di fare queste continue lotte, queste continue fazioni. Il karate sportivo non è karate, il karate sound non è karate, il karate alle Olimpiadi sono la tomba del karate. Ragazzi, basta. Smettiamola. Ognuno ha diritto a pensarla come vuole, per carità, però dovremmo smetterla con questo livore, no? Cioè, noi, proprio soprattutto in Italia, in tutte le cose, in politica, anche nel karate, non riusciamo mai a esprimere la nostra opinione serenamente, no? Dobbiamo sempre arrabbiarci, ma perché? Cioè, smettiamola e cerchiamo di convivere più serenamente ognuno con le proprie idee. Dico semplicemente questo. Quindi il sound karate, che per me è stata un'esperienza, un po' una parentesi, perché è stata un'esperienza unica finora, unica nel senso che poi non ho più ripetuto, però devo dire che è stato per me molto bello, molto stimolante, appunto, eseguire il catarritmo di musica. Ed è un'esperienza che, secondo me, si dovrebbe provare. Bene, io ho concluso questo video di oggi perché vi ho detto tutto. se il video vi è piaciuto lasciate like, commentate, condividete e ovviamente se i miei contenuti vi sono graditi iscrivetevi al canale. Noi ci rivedremo, penso, più tardi, probabilmente, perché siccome sto per finire il libro di Sarah Cardin, ci ho dato una botta prima, ce ne darò un'altra oggi pomeriggio, che praticamente sono arrivato, credo, a quello che sia l'ultimo capitolo, quindi penso che ci vedremo più tardi in cui e farò un video in cui farò una recensione del libro di Sarah Cardin, Combatti, ho scelto di vincere. E mi raccomando, se c'è qualcuno che ancora non l'ha finito, invito a non guardare quel video lì, quando lo farò, perché conterrà spoiler, ma ve lo ricorderò anche nel video apposito che poi andrò a fare. Detto questo, io vi ringrazio e ci vediamo ad un prossimo video. Arigatoukusemasta.